crolla innumerevoli corti giacciono disanimati qua e là per le strade dentro le case e sulle venerande soglie degli dèi il fuoco brucia cancellando la gloria di un intero popolo ardono le fiamme distruggendo le inespugnabili mura piangono l'ira degli dèi che soffia impietosa sulle navi venti di vendetta pochi faranno ritorno nella propria patria da qui è nata questa idea questo progetto che è quello di una fruizione itinerante attraverso il teatro itinerante di giuseppe ranoia che nella sua forma di teatro prova troverai vi farà rivivere questo luogo sulla raccontando quella che è la storia che questi posti hanno dato alla nostra civiltà la nostra comunità un viaggio nelle nostre origini un viaggio alla riscoperta di quella che fu la magna grecia e che vide lo sbarco sulle nostre spiagge dei greci scappati dalle loro terre per ricreare qui nelle nostre nuove civiltà e megalellas il sogno degli dèi la rappresentazione itinerante nei parchi archeologici di policoro e metaponto lo scorso ferragosto il primo spettacolo svoltosi nel parco archeologico di policoro diretto da giuseppe ranoia attori locali che hanno dato vita ad una rappresentazione teatrale itinerante suggestiva e piena di patos ed emozione diverse le novità di quest'anno tra queste la figura di odisseo e il finale dedicato all'importante valore della democrazia lo spettacolo sarà ripetuto il 21 il 27 a policoro mentre a metaponto si svolgerà il 18 il 25 agosto e il 3 settembre uno spettacolo da non perdere che farà ben ricordare a tutti le nostre origini non perdere che farà ben ricordare a tutti i cantioni bambini Grazie a tutti! Grazie a tutti!